Cavalli che vanno in partenza per questa sesta corsa del San Paolo. E allora, vediamolo questo centrale molto interessante. Partiti. La lotta per il comando è tra Morgana B, Paolo M e a largo President. Paolo M insiste e passa su Morgana B, andando lui al comando, ma poi si getta di galoppo. E così rimane davanti Morgana B, con President secondo che adesso vuole andare a chiedere strada. Morgana B lo ha a seconda, e così President leader nei confronti di Morgana, Incos davanti a Marozza Demar. All'esterno il rimesso Paolo M, 400 in 28, senza neanche spendere troppo. È in testa il favorito. Cavalli dopo 600 metri di gara in questo momento, con un 43,9, President porta a spasso la compagnia. Nessun problema per lui, mentre è squalificato Paolo M. I primi 800 di gara vengono percorsi in questo momento da President, in un minuto e un decimo. Ha rallentato notevolmente, con Lucio Becchetti che non vuole lasciare spazio agli avversari. E così va in mano sino al chilometro. In 1,15,8. Nessuno muove, nessuno è interessato, la sola Pabella Zetane dalle retrovie prova una sortita. Ma adesso President allunga e lo fa con un parziale in 3,9 ancora in mano. Morgana B sempre lì sotto. Poi Incos, Marozza Demar con President e Morgana che si affaccia. Questo è il tema, Incos va di dentro. La curva percorsa dalla battistrada President con Morgana B che cerca di andare all'assalto di President che non viene richiesto con la frusta. Si limita a controllare Lucio Becchetti con President che va fino in fondo nei confronti di Morgana e Incos con un 27,4 per gli ultimi 400 metri dopo che President aveva rallentato il ritmo per gli 800 metri intermedi. Il tempo al chilometro è 1,59,5, 1,14,7. Un lavoro pubblico per President che va a segno con Lucio Becchetti per il signor Luigi Colasanti. La quota di 2,52. La quota di 2,52.